Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su FIFA 15, finalmente anche Bistard spacchetta e con me ho Dexter E ciao a tutti amici, oggi se Bistard trova un Toti, io mi incazzo, già mi ha detto Abbiamo anche Tatino Ciao ragazzi, io invece non mi incazzo perché ho già trovato qualcuno Bene, ottimo Allora, partiamo subito con cosa? Giocatori aero premium? Vai, tutti e 10 Tutti e 10, vai, spacchettiamo, Suspense, al momento ci sono dei problemi con il negozio Perfetto, ottimo Allora andiamo con quelli da 15k Vai, vai Chi c'è? Vai, vai, vai Suspense, 3, 2, 1, aspettate che non faccio saltare niente Che cavolo è? Allora, argentone canadese Ecco, te A posto Giunutovic A posto Jokonan, questo qui è un pisalone per te Esatto Jokonan Jokonan, vabbè Poi chi è? Diori, c'ho Lucas, brasiliano Ma, e te la metti pure È forte? Ebbè 91 di 1 Abbiamo spacchettato bene, ragazzi Prossimo pacchetto, ragazzi Vai, spacchettiamo altri 15k Che mi prendo veramente Suspense Attenzione Qui vedo un Messi No, Rafinha Moretti Proviamo con quelli da 25k Vai, riproviamoci Oh Attenzione È partito Rullo di tamburi Attenzione Buffon Hai capito Hai capito Buffon Subito così Track Thompson Vabbè, ma un portiere mi serviva Poi ho trovato Muslera E Diabade 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 Iii Vai, questo mi piace Poi mi faccio, ragazzi, una squadra Scrivetemi nei commenti Che squadra devo fare Altri 25k Pronti per lo spacchettamento Vai Vai, siamo pronti Fatti le mani Oh Limpatte, vai Miller, attenzione Ma tutti ori Müller Aspettate, eh Ma perché? Müller Non è quello cinese, no, eh Non è quello cinese, no Non lo so, fammi vedere Della Germania, Hamburgo Della Bundesliga Ah, è quello cinese Ah, è quello cinese Oh, cavolo Mi ero già preso bene Inviamo tutto al club Cosa faccio? Altri 25k? Vai, vai, che sei pronto Vai, vai, altri 25k Vai, che è un Dexter e Tatino Che portano fortuna Dai, che c'ha messo i blu Me lo sento Non è vero Messi blu manco c'è Ma che cacchio ho preso? Putt Ma chi ho? Ho trovato Godin Che ha 130 anni Ecco E Sanchez Come Sanchez? Come Sanchez? Ma Sanchez l'ho trovato io Ma è pisellone questo Sanchez, eh Ah, ho un colpo Vai 25k, buttiamoli giù dalla finestra Dai Dai, che questo qui c'è la maglietta blu Deve portare fortuna Giulio Cesar Henry Henry ho trovato Il francese Super Henry Giulio Cesar Julio Cesar E poi Che ho trovato? Vabbè, Marchetti Non è nulla di che Ningollan Ma questo sembra Un monaco Sembra un monaco tibetano Eh, ma infatti lui è indonesiano Ah, buono Vabbè Vai, ne sto spacchettando un altro da 25k Con due al biselone Samba Eh, samba Mi balla la samba Poi ho trovato uno della Russia Che si chiama Ignashevich Chi è? Ignashevich Come cavolo si dice Tutti fortissimi Viudez Ma chi è sta gente? Ma chi l'ha mai sentita? Monnezza Monnezza, eh C'è ragione latino È trovato proprio le monnezze Mamma mia Oh Ma gli argentoni ce stanno? Eh, forse ne ho trovati un paio Vai, vado con quelli da Premium Maxi da 15k Maxi in culata Vai Vai Spacchettiamo Oh Stavolta salto tutto E non ho trovato niente Call ho trovato Inghilese Eh Culo Che culo, veramente Eh, non ho trovato nessun Niente di niente Tutto a forma Ho trovato qua Niente Boateng ho trovato ragazzi Boateng quale? Quale? Eh Quello Del Bayern Eh Bundesliga Del Schalke Oddio E no Guilherme Ho trovato Guilherme Guilhermo Te l'ho trovato Bello Fortissimo Bruma È buono Quello è forte Portogallo Galatasaray Va bene Va bene Vai Altro da 15k Siamo pronti? Oh Questa volta lo lascio così Mani alzate Non guardo Invece sì Guardo Ma chi è? È meglio che stavo zitto Perché questo qua si chiama blind No Questo è Williamson Oddio Io lì l'ho trovato Questo blind Che vuol dire cieco È ciecato Blind Ma dai Che spacchettamenti Oh Vai Ultimo pacchetto Da 7,5 E troviamo Si possono trovare i blu Da 7,5 No vero? Certo Si E allora Con le ciappette Che ho io Lo trovo Oh Invece ho trovato Benaglio Agassa Dai Apri un altro da 15k Agassa del Togo Vai Ultimissimo ragazzi Poi basta Veramente Stiamo dilapidando Una fortuna Oh Attenzione Suspense Gerard Neanche uno if Neanche uno if È andato male Questo spacchettamento Quindi ragazzi Il video per oggi Finisce qua Arriviamo a 5000 like Per un altro episodio Per un altro spacchettamento bestiale Purtroppo non ho Assolutamente fortuna Perché non ho trovato Neanche un if Niente di niente Ditemi voi nei commenti Cosa avete trovato Io ringrazio Dexter e Tatino Per avermi Cercato di portare fortuna Ma purtroppo È andata male E te chiami me Che te lo sai fare Argentoni Eh purtroppo È andata così dai Ci rifaremo Nel prossimo video Ragazzi quindi Like Commento Iscrivetevi alla pagina Facebook Al canale Qua da Bistard è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao